Buon venerdì 9 aprile. Siamo tutti responsabili con tutti. Questa è la frase che è stata generata ieri all'incontro della scuola primaria. Non responsabile di tutti o per tutti, ma con tutti, con lo sguardo rivolto a qualcosa che trascende ciascuno di noi, che non è neppure un noi collettivo, è il bene comune, quella condizione entro la quale siamo chiamati a coltivare l'etica, l'amore, la solidarietà, l'amicizia, che non sono parole vuote, con toni un po' romantici, per ingenui, perché molto spesso noi riteniamo che le persone concrete siano quelle che guardano alla dura realtà, non sono inclini alla generosità, alla condivisione. abbiamo forgiato le coscienze sulla base di un'idea di autonomia che fa delle relazioni umane la somma di diversità insopportabili. Molto spesso la stessa relazione familiare diventa una coabitazione entro la quale ciascuno non si sente con lo sguardo rivolto a una realtà che trascende quella stessa coabitazione e porta inevitabilmente a una vita autenticamente comunitaria. spesso siamo tentati a interpretare quello che accade sulla base di un nesso di causalità che ha fatto sì che quella persona si sia sostanzialmente rotta, vada aggiustata. Questo è un aspetto che nel corso del lavoro del club viene ripetuto più volte. anche queste riflessioni mi è capitato spesso di ricordare soprattutto a me stesso, questo monito. Se ti accade qualcosa di difficile da sopportare non pensare che sia semplicemente qualcosa di emendabile in te stesso o di rimovibile in quello che ritieni sia stata la genealogia di quella condizione. se ti hanno truffato, come è accaduto a me, non pensare che la via di uscita sia semplicemente concentrarsi sulla colpa del truffatore e non pensare neppure che in te si sia generata una ingenuità che ha fatto sì che ti sei fidato. Io credo che la via di uscita è quella di gettare lo sguardo attraverso l'esperienza dolorosa verso una condizione che in prima istanza sembra caotica ma che ci porta a esplorare l'ignoto a portarci molto lontani dal punto di equilibrio nel quale ci eravamo collocati a volte un po' lamentosi a volte anche orgogliosi di aver raggiunto quel punto di equilibrio allora quando ne proviamo orgoglio e felicità ci chiudiamo in una fortezza che è antitetica all'evoluzione della vita una fortezza nella quale inevitabilmente si genera tensione difensiva anche paranoica diventiamo guardinghi ingenerosi prevale il trattenere rispetto all'aprire il nostro sguardo si gira intorno sospettoso allora la nostra coscienza il nostro modo di vivere diventa pregno di paura e la paura a sua volta coltivata nel tempo genera tensione la miscela tra paura e tensione a sua volta è portatrice di aggressività e l'aggressività trattenuta inespresse genera odio i nostri corpi sono scossi da tremore da stato d'ansia abbiamo paura non ci sentiamo rassicurati ma anche questo dovrebbe in qualche maniera insegnarci che quella paura quella rabbia quella aggressività coartata compressa non può trovare una soluzione attraverso il contenimento o lo scioglimento illusorio tramite rimedi chimici che qualche volta temporaneamente possono anche essere necessari ma rappresentano semplicemente una stampella che ci chiede di essere abbandonata per poter camminare speditamente nella vita possiamo anche immaginare dei momenti di sospensione della vita in luoghi di contenimento dove si immaginano disintossicazione approfondimenti diagnostici sono semplicemente delle residenze di sollievo rispetto alle contraddizioni per tornare poi a viverle intensamente quelle contraddizioni ecco che allora siamo tutti responsabili con tutti in questo tempo di una crisi evidente che non è solo macrosistemica globale sanitaria o economica è soprattutto esistenziale noi interpretiamo e rappresentiamo una figura antropologica che ha creduto idolatricamente a una scienza che voleva fissare il tempo fissarlo in una eternità assoluta in una scienza che voleva liberarci dalla inevitabilità del divenire dello scorrere rispetto al quale il futuro stesso domani è destinato a diventare passato e le regole della convivenza assolutizzate in una fissità temporale non valgono la scienza la scienza ha cercato le leggi universali ed eterne ma la scienza deve esplorare il divenire che naturalmente ci porta a una eternità la quale noi apparteniamo ma che non è nelle nostre mani poter dominare scienza deve in qualche modo essere consapevole di un suo costantemente superamento le sue stesse scoperte le sue stesse invenzioni sono destinate a essere superate proprio dallo scorrere del tempo e lo scorrere del tempo ci consegna naturalmente all'esperienza della morte ma allo stesso tempo ci deve rassicurare che noi apparteniamo una vita che continuerà dopo di noi ed è venuta prima di noi e nel bel testo che ha recentemente scritto Umberto Curi proprio sulla questione del tempo cogliamo una riflessione molto profonda sul piano antropologico e scientifico di una questione che si dibatte fin da quando l'essere umano è diventato cosciente e consapevole e ha cercato di rappresentare il tempo in questa duplicità quello della fissità assoluta del suo non scorrere e allo stesso tempo nella consapevolezza che poi in realtà nella concretezza il tempo scorre e questo scorrere del tempo si deve trovare sempre preparati con questa disposizione d'animo dell'essere responsabili tutti con tutti non in una generica condizione globalizzata ma nella specificità delle condizioni che viviamo dentro le quali compiamo sicuramente degli errori e siamo chiamati alla correzione fraterna a proposito di questo piccolo episodio a margine della lezione di ieri dove avevo esemplificato la necessità di rispettare la biodiversità e portavo come esempio l'insensatezza di portare un leone al polo nord o avevo detto di portare i pinguini all'equatore dimenticando che non conoscendo ma penso che sia più una dimenticanza che i pinguini sono abbastanza ubiquitari anche se naturalmente coloro i quali si trovano a vivere all'equatore hanno una forma biologica di adattamento che è diversa da quelli che si trovano al polo ma era evidente che io avevo compiuto un errore Lucio e questa è una testimonianza straordinaria di come noi dovremmo porci nell'esistenza fraterna con molta eleganza con molta simpatia e con grande ironia mi ha detto guarda la prossima volta prendi gli orsi polari perché i pinguini sono anche all'equatore ecco vedete questa modalità che rappresenta proprio una cultura della correzione fraterna senza presupponenza senza aggressività con molto senso dell'amicizia con ironia credo che l'ironia sia uno dei tratti fondamentali dell'intelligenza cioè di andare nella profondità della conoscenza tenendo presente della delicatezza della stessa spesso nelle epoche precedenti anche nel mondo della didattica si è voluto privilegiare per non offendere il discente l'alunno la connotazione positiva cioè gli si dava ragione anche quando aveva torto e si diceva che aveva fatto giusto anche quando aveva sbagliato perché non si voleva umiliare no non è quella la strada della connotazione positiva non è quella che fa crescere che ti fa rassicurare rispetto alla inevitabilità dell'errare e guardate errare vuol dire sbagliare ma vuol dire anche camminare perché la correzione fraterna ti fa camminare la connotazione positiva ti illude di poter star fermo dove sei ti illude di sapere quando non sai e naturalmente l'opposto della connotazione positiva non può essere l'umiliazione del soggetto la punizione no è la correzione fraterna io ringrazio veramente Lucio perché attraverso questo suo atteggiamento che è difficile da descrivere e si può solo vivere e credo che dovrebbe essere quello che il club può offrire una correzione fraterna reciproca di tutti con tutti sentendosi ognuno responsabile relativamente al bene comune custodito con consapevolezza di poter sbagliare è un aspetto che dobbiamo assolutamente approfondire anche nella relazione tra le generazioni adulte e quelle che verranno in futuro quelle dei figli tutti responsabili con tutti rispetto alla dimensione della genitorialità indipendentemente dalla procreazione biologica non facciamoci semplicemente tutori dei nostri figli o correttori o giustificatori dei nostri figli non ci sono appropriazioni c'è una vita che va rispettata nella sua autonomia evolutiva che avviene sempre nella libertà generata nella relazione questo è il punto fondamentale della costruzione della dimensione dell'amore che non può essere confinata a emozioni e sentimenti certo include in sé anche tutto questo ma non è sufficiente perché anche nel tempo dell'amore e della passione inevitabilmente appare in tutta la sua pienezza la biodiversità che ci caratterizza singolarmente ed evolutivamente mai definitivamente e allora in quella realtà noi siamo chiamati a coltivare la pazienza che è il patos che è il sentire che è il soffrire e anche il condividere la dimensione del piacere c'è la passione del dolore e c'è la passione del piacere se stemperiamo entrambe se le anestetizziamo non siamo in grado di costruire una dimensione autenticamente fondata sull'amore e la correzione fraterna è il segno inequivocabile della nostra capacità di autocorrezione e di eterocorrezione con animo gentile non semplicemente correttivo perché anche nei nostri confronti spesso siamo ingenerosi votati al delirio di ogni potenza e di ogni scienza facciamo fatica a immaginare i nostri errori e quando li cogliamo ci rivolgiamo a noi stessi con i segni dell'insuccesso e del fallimento dobbiamo imparare dobbiamo imparare a essere un pochino anche autoironici nel coltivare una dimensione esistenziale improntata non al successo ma neppure all'insuccesso ma a una ironia e a un senso della responsabilità che non è rigidità e capacità di procedere insieme verso l'ignoto verso lo scorrere del tempo che dispiega la vita stessa in tutta la sua potenzialità e in tutta la sua eternità tutto questo ci potrà veramente liberare dall'angoscia di morte e dall'ansia e aprirci alla bellezza di vivere intensamente ogni giornata della nostra esistenza buona giornata a tutti